Il film è un film, non una merda, film, film horror, fatto scientifico, perché comunque parlo di una sanale, ci sono gli alieni, gli xenomorfi, che ne ha più in realtà, il film è un film, insomma, in generazione sanale, parte dallo spazio. Questa è un film, è vero, ma non è vero, perché anche un anno, in generale, è vero. Il film è un film, risultato come lo scopo, rispondendo il film, un minuto, e in generale, una certa di agonia, di astronave, dello spazio di questo alieno che non c'è solo di mezzo all'alieno perché l'alieno è la parte centrale, non solo perché c'è di mezzo la compagnia c'è di mezzo l'android ed è già l'importante del film l'android è tutto insieme di questo film e della compagnia Grazie a tutti Grazie a tutti